Lo sviluppo economico di un territorio, di una regione, passa necessariamente attraverso adeguate infrastrutture e adeguati trasporti. Ne parliamo con Massimiliano Di Cuia, l'Avvocato Massimiliano Di Cuia, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia, a sostegno di Raffaele Fitto, Presidente. Ecco, analizziamo un po' la situazione infrastrutturale del territorio ionico. Io credo che se analizziamo gli ultimi cinque anni di governo regionale, quindi di governo dell'Aggiunta Emiliano, ci rendiamo conto che dal punto di vista delle infrastrutture e dei trasporti a Taranto non è successo assolutamente nulla. Non ricordo una grande opera, non ricordo una novità, ricordiamo novità ma sono negative. L'aeroporto di Grottaglie, della cui apertura si è più volte parlato, è tuttora chiuso ai voli civili. Qualche treno che avevamo di collegamento con le principali città d'Italia è sparito. Quello che ascolto molto spesso nelle ultime settimane parlando con i turisti che sono in giro è che arrivare a Taranto è un'odissea perché non ci sono collegamenti. Non parliamo di infrastrutture viare perché la famosa regionale 8 è ferma per una responsabilità esclusiva della regione, perché ha distratto parte di quei fondi per finanziare l'emergenza Covid, questo è bene dirlo. Quindi non è successo assolutamente nulla. Parliamo di proposte. È chiaro che l'impegno doveva essere quello di potenziare i collegamenti di Taranto con il resto d'Italia ed Europa. Non possiamo più permetterci di essere una città isolata dal resto del mondo. Se vogliamo parlare concretamente senza fare demagogia di turismo evidentemente dobbiamo partire dai collegamenti. Quindi bisogna potenziare l'offerta dei collegamenti ferroviari. Taranto deve avere collegamenti diretti con le principali città italiane. Bisogna ridare centralità all'aeroporto di Grattaglia. Non è più possibile che un aeroporto di questo tipo, che è costato milioni di euro ai contribuenti pugliesi, rimanga chiuso ai voli civili. Quindi dico agli elettori, siamo attenti alle promesse che vengono da chi ha governato negli ultimi cinque anni. Chi ha governato non deve dire cosa vuole fare. Chi ha governato deve dire cosa ha fatto. Quindi se l'aeroporto di Grattaglia è rimasto chiuso negli ultimi cinque anni, verosimilmente se Emiliano rivincerà le elezioni, cosa che al momento vedo molto difficile, certamente l'aeroporto di Grattaglia viverà altri cinque anni di fermo. Noi ci impegniamo a rivalutare questa importante infrastruttura e a dargli un ruolo centrale nel sistema trasporti della Regione Puglia. Grazie. 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 Grazie.